Un ragazzo di 17 anni di Caltanissetta è finito nei guai a causa di un incidente. L'episodio si è verificato la notte del 16 ottobre in via Due Fontane, quando il giovane a bordo di un quadriciclo intestato alla madre sarebbe finito contro una Fiat Punto guidata da un ragazzo nisseno di 21 anni. Subito sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 17enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Sottoposto ad accertamenti tossicologici sarebbe risultato positivo a sostanze stupefacenti e alcoliche, riportando lesioni guaribili in 10 giorni. I carabinieri hanno quindi ritirato il patentino del giovane e sottoposto a sequestro il mezzo che sarebbe risultato privo di copertura assicurativa.